Ciao, sono Elena Vallortigara, saltatrice in alto del Centro Sportivo Carabinieri. Qualche mese fa con Mondo abbiamo realizzato un'intervista, non pubblicata per fattori contingenti al virus, ma che mi piacerebbe molto farvi vedere e che verrà pubblicata nei prossimi mesi. Nel frattempo vorrei raccontarvi come sto vivendo questo periodo, in particolare dopo la notizia della posticipazione delle Olimpiadi e il divieto di allenarsi al campo, che mi ha evidentemente costretta a sfruttare gli spazi in casa e intorno a casa. Con il mio allenatore abbiamo modificato il programma di allenamento, concentrandomi più su aspetti di base, organici, di stabilizzazione e di forza carico naturale, anche in funzione di un cambio del programma gare. Al momento non abbiamo un calendario agonistico preciso, ma sappiamo che le Olimpiadi sono state posticipate l'anno prossimo e nel momento in cui è stata definita la nuova data, la mia attenzione si è rifocalizzata sull'obiettivo. Spero che Tokyo rappresenti il momento della rinascita per tutto il mondo tramite lo sport che secondo me ben rappresenta la libertà e il benessere individuali e collettivi. Io sto lavorando per sfruttare al meglio questo tempo in più, per essere pronta fisicamente e mentalmente e ancora più consapevole di quello che posso realizzare. Ci vediamo alla prossima!